Buongiorno per la vittoria, meritata. Per quanto ci riguarda noi abbiamo fatto 30 minuti molto belli, gagliardi, con grande energia e in qualche modo che danno a continuità finalmente una bella settimana di lavoro senza problemi e questo era il nostro unico grande obiettivo. Peccato che abbiamo perso un po' fiducia nel momento in cui ci sono usciti due o tre palloni e un po' questo nostro difetto di, nel momento in cui andiamo un po' in attacco purtroppo, di aprire anche le maglie difensive perché l'ultimo quarto, al di là di tutto, abbiamo concesso troppo a Milano e soprattutto non ci sono 24 punti di scarto rispetto a quello che si è visto in queste 30 minuti. È evidente che poi dopo ci siamo anche stati attenti, voglio dire, di non fare dei danni visto il momento fisico della squadra, però intanto abbiamo dato continuità a una settimana finalmente di grande lavoro con un'ottima prestazione, quindi per questo sono assolutamente ottimista, spero di farne ancora un'altra e di preparare una grande partita che per noi, come tutte le bandi, sono importanti, siamo arrivati al Valverde, molto attraverso. Concesso meno tiri puliti, abbiamo giocato, credo, con più ritmo, Cinz ha dato molta energia alla squadra, Riccardo ha giocato un'altra sera, Kiefer ha fatto Kiefer, è una partita tecnica, Udra ha fatto una presenza, è una partita tecnica, non è neanche il cambio di strategie, o di inventi di schemi nuovi o delle furbate. E' così a tutti i livelli, a maggior ragione è una partita in cui noi eravamo senza i nostri due giocatori più creativi in attacco, cioè Ciancio e l'altro, e giocavamo molto a Spartacale, una bellissima situazione di Spartacale, che ha per il campo con questi ragazzi che tirano bene da tre, è ovvio che hai bisogno di prestazioni individuali di livello, se no non dice, è molto semplice, quando l'abbiamo trovata, questa capola partita, direi, parziale, parziale città.